The sense of wonder per Aprilia significa rompere gli schemi, avere il coraggio di accettare una nuova sfida, racchiudere in una moto la forza degli elementi, aria, terra, acqua, fuoco. RSV1000 segna una svolta nel panorama delle super sportive, diventa il nuovo punto di riferimento, la maneggevolezza e la facilità di guida delle bicilindriche sposano la versatilità e le prestazioni delle plumi frazionate. RSV1000 raccoglie ed esalta il patrimonio di Aprilia, contenuto tecnologico elevatissimo, qualità costruttiva superiore, design inconfondibile, tutta la passione del mondo delle corse. RSV1000 è la migliore motocicletta di serie per l'uso in pista, restituisce il piacere di guidare, appaga il pilota più esigente ed evoluto. Aprilia diventa l'unica casa costruttrice europea ad offrire una gamma completa di moto e di scooter che soddisfano ogni bisogno di mobilità individuale. La terra, robustezza e stabilità. RSV1000 è una moto senza compromessi. A partire dal telano, che accoglie un motore compatto, un bicilindrico a Q di soli 60 gradi. Il risultato è una ciclistica perfetta, che scarica a terra tutta la potenza del propulsore con esaltanti nodi di stabilità e maneggevolezza. Un telaio innovativo, con valori record in rigidità torsionale e flessionale. Il forcellone a bracci differenziati aziona un ammortizzatore multiregolabile con serpatoio piggyback integrato. Il peso a secco della moto è di 189 kg, perfettamente distribuiti tra avantreno e retroreno. L'impianto renante, nato dalla collaborazione con Brembo, utilizza l'anteriore pinze a quattro pistoncini di diametro differenziato, su dischi da 320 mm. RSV1000, velocità, agilità, sequenza. Il fuoco, forza ed emozione. Il propulsore che equipage RSV1000 è completamente nuovo. Un motore nato per emozionare, potente, compatto e leggero. Eccolo, bicilindrico a Q di 60 gradi, 1000 cm³, 4 valvole per cilindro, 128 cavalli. Potenza senza vibrazione. Assorbite dai due contralberi del sistema AVDC, Anti-Vibration Double Carto Shining. Gli vietori sono inseriti in due corpi farfallati di 51 mm di via. L'accensione elettronica digitale utilizza il sistema TSA, Twin Spark Ignition, con due cadene per cilindro. Potenza che si scarica in tutta sicurezza, anche nelle scalate. Il saltellamento della ruota posteriore è controllato dalla frizione a comando idraulico servo assistuta, esclusivo brevetto PPC, Neumatic Power Clutch. Potenza, tecnologia, affidabilità, rispetto dell'ambiente. Il motore ad elevato rendimento, anticipa la futura normativa europea sulle emissioni Euro 1, senza bisogno di cataluzazione. RSV 1000, potenza e tecnologia. L'aria, l'elemento dell'eterna sfida dell'uomo alla velocità. La galleria del vento ha messo alla prova e ispirato le scelte e le intuizioni del centro stile. Come le piccole rughe del frontale, che diminuiscono le turbulenze sulle spalle del pilota, a qualsiasi velocità. Il comfort di guida è assoluto. L'aerodinamica che abbiamo ottenuto è da record. Per arrivare a 200 chilometri all'ora sono necessari appena 49 cavali. RSV 1000, il design, figlio del vento. L'acqua, la forma in perelle mutamento. Fin dai primi bozzetti, dai modelli, ci siamo ispirati all'idea di una moto super sportiva dalle dimensioni contenute, aggressiva, personale. Disegnata per accogliere e proteggere qualsiasi pilota. Per rendere il viaggio e l'uso in pista emozionante e sicuro. Il triplo fanale anteriore aumenta la sicurezza nella guida notturna e al tempo stesso rende RSV 1000 inconfondibile al primo sguardo. RSV 1000, l'estetica conquista la funzione. RSV 1000, il terzo occhio per il il terzo è marchito.